Gentili partecipanti, signore e signori, amici, ho avuto un piccolo assaggio delle discussioni che si sono svolte qui nei giorni precedenti, tutte molto interessanti e istruttive. Spero che non vi siate pentiti di essere venuti in Russia e che abbiate modo di parlare l'uno con l'altro. Sono felice di vedervi tutti. Al Valdai Club abbiamo parlato molte volte di quei profondi ed importanti cambiamenti che sono già avvenuti e che stanno avvenendo nel mondo. Abbiamo parlato dei rischi associati al deterioramento delle istituzioni internazionali, all'erosione dei principi della sicurezza collettiva, alla sostituzione del diritto internazionale con le cosiddette regole, regole i cui ideatori sono noti, avrei voluto dire, ma forse non è esatto. In generale, infatti, non è chiaro chi le abbia inventate, quali siano le basi di queste regole, che cosa contengano. Stiamo assistendo, pare, al tentativo di affermare un'unica regola affinché chi è al potere, si parlava di potere, ora parlo di potere globale, possa vivere senza alcuna regola e sia autorizzato a fare quello che vuole, a farla franca. Sono queste, infatti, le regole che, come si suol dire, ci vengono ripetute in modo ostensivo, le regole, insomma, di cui si parla sempre. Il valore delle discussioni del Valdai sta nel fatto che sono state fatte diverse valutazioni e previsioni. Quanto queste fossero accurate, lo dimostrerà la vita stessa, il più rigoroso e oggettivo dei giudici, la vita. Ahimè, finora gli eventi hanno continuato a seguire quello scenario negativo di cui abbiamo parlato più di una volta durante le precedenti riunioni. In più, questi eventi si sono tramutati in una crisi sistemica su larga scala, non solo nella sfera politico-militare, ma anche in quella economica e umanitaria. Il cosiddetto Occidente, chiamato così convenzionalmente, poiché è unito, è chiaro che è un conglomerato molto complesso, comunque volevo dire che l'Occidente ha compiuto una serie di passi verso l'escalation negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi. In effetti, i paesi occidentali sono sempre soliti alzare la posta in gioco, non è una novità. Mi riferisco all'istigazione del conflitto in Ucraina, alle provocazioni intorno a Taiwan, alla destabilizzazione dei mercati alimentari ed energetici globali. Quest'ultima, ovviamente, non è stata fatta di proposito, non c'è dubbio, ma è la conseguenza di una serie di errori sistematici da parte proprio di quelle autorità occidentali che ho già citato. A questo si aggiunge, come stiamo vedendo, la distruzione dei gasdotti paneuropei. È una cosa assurda, inimmaginabile, eppure stiamo assistendo proprio a questi sfortunati eventi. Il dominio sul mondo è proprio ciò su cui il cosiddetto Occidente ha puntato la propria partita. Ma si tratta di un gioco senz'altro pericoloso, sanguinoso e, direi, sporco. È un gioco che nega la sovranità dei paesi e dei popoli, la loro identità e unicità, e non attribuisce alcun valore agli interessi degli altri stati. Anche se non si parla direttamente di negazione, nei fatti è proprio così. Nessuno, tranne coloro che formulano le regole che ho citato, ha infatti il diritto di sviluppare la propria identità. Tutti gli altri devono attenersi a queste regole. A tal proposito, ricordo le proposte della Russia ai partner occidentali circa il rafforzamento della fiducia e la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva. Proposte che, a dicembre dello scorso anno, sono state nuovamente messe da parte. Ma nel mondo di oggi non si può certo stare con le mani in mano. Chi semina vento, come si dice, raccoglierà tempesta. La crisi è diventata davvero globale, riguarda tutti. Non bisogna farsi illusioni. Ora ci sono essenzialmente due strade per l'umanità. O continuare ad accumulare un carico di problemi che inevitabilmente ci schiaccerà tutti, oppure lavorare insieme per trovare delle soluzioni che, per imperfette che siano, funzionino e possano rendere il nostro mondo più stabile e sicuro. Sapete, ho sempre creduto nel potere del buonsenso. Sono quindi convinto che, prima o poi, sia i nuovi centri dell'ordine mondiale multipolare, sia l'Occidente, dovranno dialogare alla pari sul nostro futuro comune. E prima lo faranno, meglio sarà, ovviamente. A tale proposito, vorrei sottolineare alcuni punti molto importanti per tutti noi. Gli eventi attuali hanno messo in ombra le questioni ambientali. Curiosamente, è proprio da qui che vorrei partire. Le questioni relative al cambiamento climatico non sono più in cima all'agenda. Ma queste sfide cruciali non sono scomparse, non sono svanite, sono solo aumentate. Una delle conseguenze più pericolose dello squilibrio ecologico è la riduzione della biodiversità. E qui vengo al tema principale per cui siamo tutti riuniti. Gli altri tipi di diversità, culturale, sociale, politica, di civiltà, sono forse meno importanti? Eppure l'appiattimento, la cancellazione di ogni differenza è diventata quasi l'essenza dell'Occidente moderno. Cosa c'è dietro a tutto questo? C'è innanzitutto la perdita del potenziale creativo dell'Occidente stesso e il desiderio di frenare, di bloccare il libero sviluppo di altre civiltà. Naturalmente c'è anche un interesse manifestamente commerciale, imponendo i propri valori, le proprie abitudini di consumo, il conformismo, i nostri avversari, li chiamerò così, cercano di ampliare i mercati dei loro prodotti. Non è un caso che l'Occidente sostenga che la propria cultura e la propria visione del mondo debbano essere universali. Se non lo dicono direttamente, anche se spesso lo dicono anche direttamente, agiscono comunque in questo senso e insistono sul fatto che questi stessi valori dovrebbero essere accettati incondizionatamente da tutti gli altri partecipanti alla comunicazione internazionale. Vi riporto una citazione del famoso discorso di Alexander Solzhenitsyn ad Howard. Già nel 1978 Solzhenitsyn osservava come l'Occidente fosse caratterizzato da una persistente cecità di superiorità, che perdura tuttora, che è alla base dell'idea per cui tutte le vaste aree del nostro pianeta debbano svilupparsi ed essere dominate dagli attuali sistemi occidentali. 1978. Non è cambiato nulla. Nell'ultimo mezzo secolo, questo accecamento di cui parlava Solzhenitsyn, di natura palesemente razzista e neocoloniale, ha assunto forme sgradevoli, soprattutto da quando è nato il cosiddetto mondo unipolare. Con questo intendo dire che la fiducia nella propria infallibilità è una condizione molto pericolosa. È ad un passo dal desiderio degli stessi infallibili di distruggere semplicemente chi non è di loro gradimento. Cancellare, come dicono. Riflettiamo, perlomeno, sul significato di questa parola. Anche all'apice della guerra fredda, al culmine del confronto fra sistemi, ideologie e la rivalità militare, non è mai venuto in mente a nessuno di negare l'esistenza stessa della cultura, dell'arte e della scienza dei propri avversari. A nessuno. Sì, sono state imposte alcune restrizioni alle relazioni in ambito accademico, scientifico, culturale e, purtroppo, anche sportivo. Tuttavia, sia i leader sovietici che quelli americani dell'epoca avevano compreso che la sfera umana doveva essere trattata con delicatezza, studiando e rispettando l'avversario e talvolta prendendo persino in prestito qualcosa da lui al fine di preservare, almeno per il futuro, le basi per relazioni sane e proficue. E cosa sta succedendo ora? I nazisti, ai loro tempi, arrivarono a bruciare i libri e ora i liberisti e progressisti occidentali sono arrivati a mettere al bando Dostoevsky e Tchaikovsky. La cosiddetta cultura della cancellazione impoverisce tutto ciò che è vivo e creativo e non permette al libero pensiero di svilupparsi in nessun ambito, né in quello economico, né in quello politico, né in quello culturale. La stessa ideologia liberale oggi è diventata irriconoscibile. Mentre il liberalismo classico originariamente intendeva la libertà di ognuno come la libertà di dire ciò che si vuole, di fare ciò che si vuole, già nel ventesimo secolo i liberali hanno iniziato a dire che la cosiddetta società aperta ha dei nemici e la libertà di tali nemici può e deve essere limitata o addirittura eliminata. Ora hanno raggiunto un tale livello di assurdità per cui qualsiasi punto di vista alternativo viene dichiarato come propaganda sovversiva e minaccia alla democrazia. Qualsiasi cosa provenga dalla Russia è tutta una macchinazione del Cremlino. Ma guardatevi, siamo davvero così onnipotenti? Qualsiasi critica nei confronti dei nostri avversari, qualsiasi viene percepito come un complotto del Cremlino, dietro c'è la mano del Cremlino. È una assurdità. A che punto sono arrivati? Usate un po' il cervello, dite qualcosa di più interessante. Presentate il vostro punto di vista in modo più concettuale. Non si può dare la colpa di tutto agli intrighi del Cremlino. La storia metterà sicuramente ogni cosa al proprio posto e cancellerà non le più grandi opere dei geni della cultura mondiale universalmente riconosciuti, quanto piuttosto coloro che oggi, per qualche motivo, hanno deciso di avere il diritto e di disporre di questa cultura mondiale a loro discrezione. La presunzione di queste figure è fuori scala, come si suol dire, ma fra qualche anno nessuno ricorderà più i loro nomi. E Dostoevsky continuerà a vivere, così come Tchaikovsky e Pushkin, che lo si desideri o meno. Anche il modello globalizzazione occidentale, neocoloniale nella sua essenza, si è basato sul livellamento, sul monopolio finanziario e tecnologico, sulla cancellazione di tutte le differenze. Il compito era chiaro, rafforzare il dominio incondizionato dell'Occidente nell'economia e nella politica mondiale e, a tal fine, mettere al suo servizio le risorse naturali e finanziarie, le capacità intellettuali, umane ed economiche dell'intero pianeta, seguendo il motto della cosiddetta nuova interdipendenza globale. Ma oggi la maggioranza assoluta della comunità mondiale chiede democrazia negli affari internazionali e non accetta alcuna forma di diktat autoritario da parte di singoli paesi o gruppi di stati. Che cos'è questa, se non l'applicazione diretta dei principi della democrazia nell'ambito delle relazioni internazionali? E qual è la posizione dell'Occidente civilizzato? Se siete democratici, allora dovreste accogliere favorevolmente questo naturale desiderio di libertà di miliardi di persone. E invece no, per l'Occidente è una minaccia all'ordine liberale basato sulle regole ed ecco che avvia guerre economiche e commerciali, sanzioni, boicottaggi, rivoluzioni colorate, prepara e conduce ogni tipo di colpo di Stato. Uno di questi ha portato a tragiche conseguenze in Ucraina nel 2014. Lo hanno sostenuto dicendo persino quanto denaro era stato speso per il colpo di Stato. Sono fuori di testa, non si vergognano di nulla. Hanno ucciso Soleimani, un generale iraniano. Si può pensare ciò che si vuole di Soleimani, ma è un funzionario di un altro paese. Lo hanno ucciso sul territorio di un paese terzo e hanno detto sì, lo abbiamo ucciso noi. Ma cos'è? Dove viviamo? Washington, per consuetudine, continua a chiamare l'attuale ordine mondiale all'americana liberale. Ma in realtà ogni giorno questo famigerato ordine non fa che accrescere il caos e, aggiungerei, diventa sempre più intollerante anche verso gli stessi paesi occidentali, verso i loro tentativi, dimostrare una qualche indipendenza. Questi tentativi vengono soppressi fino alla radice e vengono imposte sanzioni ai loro stessi alleati senza alcuna remora. E questi ultimi accettano tutto, a testa bassa. Tutto questo, senza esagerare, non è nemmeno una crisi sistemica, ma proprio dottrinale del modello neoliberale americano dell'ordine mondiale. Non hanno idee in senso creativo e sviluppo positivo, semplicemente non hanno nulla da offrire al mondo se non la conservazione del proprio dominio. Sono convinto che la vera democrazia, in un mondo multipolare, presupponga innanzitutto la possibilità per ogni nazione, voglio sottolinearlo, per ogni società, per ogni civiltà, di scegliere la propria strada, il proprio sistema sociopolistico. Se gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno un tale diritto, allora senz'altro lo hanno anche i paesi asiatici, gli stati islamici, le monarchie del Golfo Persico e gli stati di altri continenti. Naturalmente anche il nostro paese, la Russia, ha questo diritto e nessuno potrà mai imporre al nostro popolo che tipo di società dobbiamo costruire e su quali principi. La minaccia principale al monopolio politico, economico e ideologico dell'Occidente è che nel mondo possano emergere modelli sociali alternativi, modelli più efficaci, voglio sottolinearlo, più efficaci nel mondo di oggi, più interessanti, più attraenti. Ma tali modelli si svilupperanno, è inevitabile. Fra l'altro i politologi americani, gli esperti, ne scrivono ormai apertamente. È vero che le autorità non prestano ancora loro molta attenzione, anche se non possono non vedere queste idee espresse sulle pagine delle riviste di scienze politiche e nei dibattiti. Lo sviluppo deve avvenire nel dialogo fra le civiltà, sulla base di valori spirituali e morali. Sì, le varie civiltà hanno una diversa comprensione dell'uomo, della sua natura, ma spesso è diversa solo in superficie e tutte riconoscono la suprema dignità e l'essenza spirituale dell'uomo. Ed è estremamente importante il terreno comune, la base comune su cui possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro. I valori tradizionali non sono un insieme fisso di postulati a cui tutti devono aderire. Certo che no, si differenziano dai cosiddetti valori neoliberali in quanto sono unici in ogni contesto, poiché derivano dalla tradizione di una particolare società, dalla sua cultura e dalla sua esperienza storica. Per questo i valori tradizionali non possono essere imposti a nessuno, ma devono essere semplicemente rispettati tenendo conto di ciò che ogni nazione ha scelto per secoli. Questo è il nostro modo di intendere i valori tradizionali e il nostro approccio è condiviso e accettato dalla maggioranza dell'umanità. Le società tradizionali dell'Oriente, dell'America Latina, dell'Africa e dell'Eurasia costituiscono infatti la base della civiltà mondiale. Il rispetto delle specificità dei popoli e delle civiltà è nell'interesse di tutti, a dire il vero, è anche nell'interesse del cosiddetto Occidente. Perdendo la propria supremazia, l'Occidente sta rapidamente diventando una minoranza sulla scena mondiale e ovviamente il diritto di questa minoranza occidentale alla propria identità culturale, voglio sottolinearlo, deve essere garantito, deve essere trattato con rispetto, ma su un piano di parità con i diritti di tutti gli altri. Se le elite occidentali intendono instillare nelle menti dei loro popoli, delle loro società, nuove mode a mio avviso strane come decine di generi e le sfilate dei gay pride, allora benvenga, che facciano ciò che vogliono, ma non possono pretendere che gli altri seguano la stessa strada. Osserviamo come nei paesi occidentali siano in corso processi demografici, politici e sociali complessi. Ovviamente è una loro questione interna. La Russia non interferisce in queste questioni e non intende farlo. A differenza dell'Occidente, noi non ci intromettiamo negli affari altrui. Speriamo tuttavia che prevalga il pragmatismo e che il dialogo della Russia con l'Occidente autentico e tradizionale, così come con altri centri di sviluppo paritari, rappresenti un importante contributo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare. Ci tengo a sottolineare che il multipolarismo è una possibilità reale e di fatto anche l'unica per la stessa Europa di recuperare la propria soggettività politica ed economica. Nell'attuale clima di duro conflitto dirò alcune cose senza mezzi termini. La Russia, come civiltà indipendente e distinta, non si è mai considerata né si considera nemica dell'Occidente. L'americanofobia, l'anglofobia, la francofobia, la germanofobia sono forme di razzismo al pari della russofobia e dell'antisemitismo, così come tutte le manifestazioni di xenofobia. È necessario comprendere bene che ci sono, come ho detto prima, due Occidenti, almeno due o forse più, ma almeno due. L'Occidente dei valori tradizionali, prima di tutto cristiani, l'Occidente delle libertà, del patriottismo, della ricchezza culturale e ora anche dei valori islamici, perché una parte significativa della popolazione di molti paesi occidentali professa l'Islam. Questo Occidente ci è in un certo senso vicino, per molti aspetti abbiamo radici comuni, persino antiche. Ma c'è un altro Occidente, aggressivo, cosmopolita, neocoloniale, che agisce come strumento delle elite neoliberali. E sono proprio i dettami di questo Occidente che la Russia non tollererà mai. Nel 2000, dopo essere stato eletto Presidente, quello che ho affrontato lo ricorderò per sempre. Ricorderete il prezzo che abbiamo pagato per distruggere il covo di terroristi nel cacoso settentrionale, che l'Occidente all'epoca sosteneva quasi apertamente. La maggior parte di voi presenti in questa sala sanno di cosa sto parlando. Sappiamo esattamente ciò che è accaduto nella pratica, sostegno finanziario, politico e informativo. Lo abbiamo sperimentato tutti. Inoltre, l'Occidente non ha solo sostenuto attivamente i terroristi sul territorio russo, ma ha anche alimentato questa minaccia in altri modi. Lo sappiamo. Tuttavia, una volta che la situazione si è stabilizzata e le principali bande terroristiche sono state sconfitte, anche grazie al coraggio del popolo ceceno, abbiamo deciso di non voltarci indietro, di non serbare rancore, di andare avanti, di costruire relazioni anche con chi in realtà aveva agito contro di noi, di instaurare e sviluppare rapporti con tutti coloro che lo desideravano, basati sul mutuo vantaggio e sul rispetto reciproco. Si pensava che fosse nell'interesse comune. La Russia, grazie a Dio, è sopravvissuta a tutte le difficoltà di quel periodo. Ha resistito, si è rafforzata, ha affrontato il terrorismo interno ed esterno, ha preservato la sua economia, ha iniziato a svilupparsi e la sua capacità di difesa ha iniziato a migliorare. Abbiamo cercato di costruire relazioni con i principali paesi dell'Occidente e con la Nato. Il messaggio era uno, smettiamo di essere nemici, viviamo insieme come amici, dialoghiamo, costruiamo la fiducia e quindi costruiamo la pace. Eravamo assolutamente sinceri, voglio sottolinearlo, comprendevamo bene la complessità di questo riavvicinamento e ci siamo impegnati. E cosa abbiamo ottenuto in risposta? In breve abbiamo ottenuto un no a tutte le principali aree di possibile cooperazione. Abbiamo ottenuto una pressione sempre maggiore su di noi e la creazione di focolai di tensione vicino ai nostri confini. E qual è lo scopo di questa pressione? Fare un pratica? Certo che no. L'obiettivo è rendere la Russia più vulnerabile. L'obiettivo è trasformare la Russia in uno strumento per il raggiungimento dei propri obiettivi geopolitici. La Russia non intende sfidare le elite occidentali. La Russia sta semplicemente difendendo il proprio diritto di esistere e di svilupparsi liberamente. Al contempo non abbiamo intenzione di diventare un nuovo egemone. La Russia non intende sostituire l'unipolarismo con il bipolarismo, il tripolarismo e così via. Il dominio dell'Occidente con il dominio dell'Est, del Nord o del Sud. Ciò porterebbe inevitabilmente ad una nuova situazione di stallo. Sono convinto che alla dittatura si possa contrapporre solo il libero sviluppo dei paesi e dei popoli. Alla degradazione degli individui si possa opporre solo l'amore per l'uomo come creatore, alla semplificazione primitiva e ai divieti la fioritura della complessità delle culture e delle tradizioni. Il significato dell'attuale momento storico consiste nel fatto che, davanti a tutte le civiltà, agli Stati e alle loro varie forme di associazione e integrazione, si aprono realmente le possibilità di un proprio, democratico, originale percorso di sviluppo. E crediamo prima di tutto che il nuovo ordine mondiale debba basarsi sulla legge e sul diritto, debba essere libero, originale e giusto. Di conseguenza, l'economia e il commercio mondiali devono diventare più equi e aperti. La Russia considera inevitabile la formazione di nuove piattaforme finanziarie internazionali anche ai fini degli investimenti internazionali. Tali piattaforme dovrebbero essere al di fuori delle giurisdizioni nazionali, sicure, depoliticizzate, automatizzate e non dipendenti da un singolo centro di controllo. È possibile realizzare qualcosa del genere o no? Certo che lo è. Ci vorranno molti sforzi, gli sforzi congiunti di molti paesi, ma si può fare. Ciò escluderebbe la possibilità che si verifichino abusi all'interno della nuova infrastruttura finanziaria globale e consentirebbe di gestire in modo efficiente, redditizio e sicuro, le transazioni internazionali senza il dollaro e le altre cosiddette valute di riserva. Tanto più che, usando il dollaro come arma, gli Stati Uniti e l'Occidente in generale hanno screditato l'istituzione delle riserve finanziarie internazionali. Prima le avevano indebolite per mezzo dell'inflazione del dollaro e dell'euro e poi, zap zap, si sono intascate le nostre riserve estere. Il passaggio alle valute nazionali prenderà attivamente slancio, inevitabilmente. Dipende ovviamente dalle condizioni degli emittenti di queste valute, dalle condizioni delle loro economie, ma si rafforzeranno e questo tipo di regolamenti diventerà gradualmente dominante. Questa è la logica della politica economica e finanziaria sovrana in un mondo multipolare. Oggi i nuovi centri di sviluppo globale possiedono già tecnologie e innovazioni scientifiche uniche in diversi campi e in molti settori possono competere con successo con le multinazionali occidentali. È ovvio che abbiamo un interesse comune, piuttosto pragmatico, ad uno scambio scientifico e tecnologico, equo ed aperto. Insieme tutti traggono più vantaggio che da soli. I benefici dovrebbero andare alla maggioranza e non a singole società iper ricche. Lo sviluppo tecnologico non dovrebbe esacerbare le diseguaglianze globali, ma ridurle. Questo è almeno il modo in cui la Russia ha tradizionalmente attuato la propria politica estera in campo tecnologico. Ad esempio, costruendo centrali nucleari in altri stati, creiamo contemporaneamente centri di competenza, formiamo personale nazionale, creiamo un'industria, non solo un'impresa, ma un'intera industria. In sostanza diamo agli altri paesi l'opportunità di fare un vero passo avanti nello sviluppo scientifico e tecnologico, di ridurre le diseguaglianze e di portare il proprio settore energetico ad un nuovo livello di efficienza anche nel rispetto dell'ambiente. Lo sottolineo ancora una volta. Sovranità e sviluppo indipendente non implicano in alcun modo isolamento e autarchia, ma piuttosto una cooperazione attiva e reciprocamente vantaggiosa, basata su principi giusti ed equi. Se la globalizzazione liberale è spersonalizzazione, imposizione del modello occidentale al mondo, l'integrazione, al contrario, consiste nel liberare il potenziale di ogni civiltà a beneficio della collettività, a beneficio del bene comune. Se il globalismo è un diktat, perché alla fine si riduce a questo, al contrario l'integrazione consiste invece nell'elaborare strategie comuni che siano vantaggiose per tutti. A questo proposito la Russia ritiene che sia importante avviare più attivamente meccanismi volti a creare grandi spazi basati sull'interazione di paesi vicini, la cui economia, il cui sistema sociale, base di risorse e infrastrutture si completino a vicenda. Questi grandi spazi, in sostanza, costituiscono anche la base di un ordine mondiale multipolare, la base economica. Dal loro dialogo nasce la vera unità dell'umanità, che è molto più complessa, peculiare e sfaccettata rispetto alle idee semplicistiche di alcuni ideologi occidentali. L'unità dell'umanità non si costruisce al suono di «fai come me, sii come noi», si forma tenendo conto e sulla base delle opinioni di tutti, rispettando l'identità di ogni società e nazione. Questo è il principio su cui può svilupparsi un'interazione a lungo termine in un mondo multipolare. A tale proposito, vale forse la pena di soffermarsi a pensare anche a come la struttura delle Nazioni Unite, compreso il suo Consiglio di Sicurezza, possa riflettere in misura maggiore la diversità delle regioni del mondo. Dopotutto, il mondo di domani dipenderà dall'Asia, dall'Africa e dall'America Latina molto più di quanto si creda oggi e una tale crescita dell'influenza di queste regioni è senza dubbio positiva. Vi ricordo, che la cività occidentale non è l'unica neanche nel nostro comune spazio euroasiatico. Peraltro, la maggior parte della popolazione si concentra proprio nella parte orientale dell'Eurasia, dove sono nate le più antiche civiltà dell'umanità. Il valore e il significato dell'Eurasia consistono nel fatto che questo continente è un complesso autosufficiente, con gigantesche risorse di ogni tipo ed enormi possibilità. E quanto più ci adoperiamo per aumentare la connettività dell'Eurasia, per creare nuovi modi e forme di cooperazione, tanto più impressionanti saranno i nostri progressi. Sono sicuro che il successo delle attività dell'Unione Economica Euroasiatica, la rapida crescita dell'autorità e dell'influenza dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, le iniziative su larga scala nell'ambito della One Belt One Road. I piani di cooperazione multilaterale per la realizzazione del corridoio di trasporto Nord-Sud e altri, tanti altri progetti in questa parte del mondo, rappresentino l'inizio di una nuova era, una nuova fase dello sviluppo dell'Eurasia. I progetti di integrazione in questo caso non sono contraddittori, ma complementari, ovviamente se vengono sviluppati da paesi fra loro vicini nel proprio reciproco interesse, anziché venire promossi da forze esterne per dividere lo spazio euroasiatico e trasformarli in una zona di confronto fra blocchi. Parte naturale della grande Eurasia potrebbe essere anche la sua estremità occidentale, l'Europa. Tuttavia, molti dei suoi leader sono ostacolati dalla convinzione che gli europei siano migliori degli altri, che non debbano quindi partecipare a qualsivoglia iniziativa su un piano di parità con gli altri. Per via di questa arroganza non si accorgono nemmeno di essere diventati già loro stessi la periferia di qualcun altro, di essersi trasformati in vassalli e spesso senza diritto di parola. Cari colleghi, il crollo dell'Unione Sovietica ha distrutto anche l'equilibrio delle forze geopolitiche. L'Occidente si è sentito vittorioso e ha proclamato un ordine mondiale unipolare in cui solo la sua volontà, la sua cultura e i suoi interessi avevano il diritto di esistere. Ora la fase storica di dominio indiviso dell'Occidente sugli affari mondiali sta avvolgendo al termine. Il mondo unipolare sta diventando un ricordo del passato. Ci troviamo di fronte ad un momento storico, in vista di quello che sarà forse il decennio più pericoloso, imprevedibile e allo stesso tempo importante dalla fine della seconda guerra mondiale. L'Occidente non è in grado di gestire da solo l'umanità, ma sta disperatamente cercando di farlo e la maggior parte dei popoli del mondo non vuole più tollerarlo. Questa è la principale contraddizione della nuova era. Usando parole di altri tempi, si può dire che la situazione è in qualche modo rivoluzionaria. Le classi superiori non sono in grado e le classi inferiori non vogliono più vivere in questo modo. Questo stato di cose è calico di conflitti globali oppure di una catena di conflitti, il che rappresenta una minaccia per l'umanità, compreso per lo stesso Occidente. Cambiare le pietre miliari è un processo doloroso, ma naturale e inevitabile. Il futuro ordine mondiale sta prendendo forma sotto i nostri occhi. Ed in questo ordine mondiale dobbiamo ascoltare tutti, tenere conto di ogni punto di vista, di ogni nazione, società, cultura, di ogni sistema di visioni del mondo, idee e credenze religiose, senza imporre a nessuno un'unica verità. E solo su questa base, comprendendo la nostra responsabilità nei confronti del destino, il destino dei popoli e del pianeta, costruire la sinfonia della civiltà umana. Su questo vorrei concludere ringraziandovi per la pazienza con cui avete ascoltato il mio intervento. Grazie mille.